SONO UN PO' ma che bravo bravo suoni da pure sentimolo ecco come questo è una roba da urlo allora l'unico dubbio è questo questo verrà anche per lavoro se tu ci devi essere col Charleston all'inizio o no me ne fai una col Charleston Charleston però morbido morbidissimo magari con una spazzola una cosa diversa una semplicità assurda col tu con tutto com'è in più il Charleston così capiamo l'indirizzo perché se no rimane così rimettiamo guardiamo l'indirizzo Grazie a tutti.